Prima di continuare, ti invito a iscriverti al canale e lasciare un mi piace, grazie. Fabrizio Corona ricoverato d'urgenza in ospedale in queste ore, tralasciando la burrascosa vicenda calcistica, si parla del ricovero d'urgenza di Fabrizio Corona. Proprio dai profila e socio di questa testata, con a capo Corona, è arrivata una notizia che ha innescato da un lato la curiosità di alcuni italiani, dall'altro la prensione dei fan dell'ex re dei paparazzi. È stato proprio Dillinger News a comunicare che Corona sarebbe stato ricoverato in ospedale, così come dimostrano alcune immagini nelle quali si vede Fabrizio, steso su un lettino ospedaliero, a torso nudo, mentre viene sottoposto ad accertamenti medico-diagnostici. A dirla tutta, già prima di questo annuncio fatto dalla testata, Fabrizio stesso ha postato su Instagram uno scatto in cui compare sulla lettiga del pronto soccorso dell'ospedale Fatebene Fratelli di Milano anche se, al momento, sono noti i motivi del ricovero.